L'ammaliante mondo dei talent show televisivi continua ad incantare gli spettatori con luci abbaglianti, performance mozzafiato e storie di aspiranti artisti desiderosi di realizzare i propri sogni. Tuttavia, dietro il fervore delle esibizioni si cela un aspetto spesso trascurato, una critica radicata nel modo in cui questi programmi plasmano e valutano il talento. Una delle critiche principali è la mancanza di valorizzazione degli autori. Ai talent show tendono a premiare esclusivamente gli interpreti, trascurando poeti musicali e artisti che veicolano messaggi importanti o denunce sociali. Il risultato è la formazione di epigoni, piuttosto che sostenere la diversità artistica e culturale. Eticamente, questi show sollevano perplessità. I giudici, spesso senza mezzi termini, schiacciano i sogni dei giovani, rischiando di ferire non solo la sensibilità artistica ma anche umana di chi si espone sul palco. La pressione e l'immediata visibilità possono essere dannose per menti e cuori troppo giovani per sopportare tali responsabilità. Sebbene possano essere trampolini di lancio, offrendo opportunità e esperienze formative, i challenge show possono trasformarsi in un supplizio senza fine. La ricerca della perfezione impedisce di sperimentare e crescere artisticamente. La televisione, in questo caso, diviene fine anziché mezzo, e l'audience regna sovrana, a discapito della qualità. Il sistema impone un verdetto precoce, ignorando il processo di crescita e miglioramento che dovrebbe caratterizzare la carriera di un artista. Questa eccessiva severità può minare la fiducia e demoralizzare i giovani talenti, ponendo precoci pietre tombali sui loro sogni. Il lato effimero del successo televisivo è evidente. La fugace fama spesso si dissolve nel nulla dopo qualche tempo. La brutalità dell'industria televisiva può danneggiare anziché aiutare la crescita di talenti promettenti, trasformandoli in pedine di un gioco mediatico senza scrupoli. L'aspetto etico si fa strada anche nell'esposizione pubblica di fragilità e vulnerabilità giovanili. I talent show, con la loro giudicante platea, amplificano le vulnerabilità umane, mettendo in scena delusioni, ridicolizzazioni e momenti virali che spesso restano indelebili nella memoria degli spettatori. Dietro il sipario, resta la domanda cruciale. Sono i talent show un percorso necessario per l'aspirante artista? L'insensibilità e la corsa all'audience prevalgono sulla vera essenza dell'arte e della musica? È tempo di mettere in discussione il prezzo che questi giovani pagano per un breve bagliore di fama. La televisione dovrebbe essere una finestra aperta sul mondo, ma troppo spesso diventa un giudice spietato e implacabile. Il riflesso di questi programmi sulla società e sulla cultura richiede un esame critico. Forse è tempo di riconsiderare la narrazione e l'approccio verso il talento e l'arte, per valorizzare la diversità, la crescita graduale e la vera sostanza artistica al di là dell'effimero palcoscenico televisivo. In fondo, l'ascesa di un artista non dovrebbe essere forzata né precocemente decisa da una giuria televisiva, ma dovrebbe essere un viaggio di esplorazione, di crescita e di autentica espressione creativa.